Salve amici del Centro Meteo Italiano, alta pressione in rimonta prima di Natale, ma prima ancora un'intensa fase di maltempo per l'Italia. Vediamo gli aggiornamenti. Situazione sinottica che tra giovedì e venerdì vedrà una perturbazione atlantica muoversi verso il Mediterraneo e portare un peggioramento. Maltempo che interesserà soprattutto il centro nord con piogge temporali anche intensi, rialzo termico importante a causa delle correnti meridionali. Possibilità comunque di qualche nevicata a bassa quota al nord-ovest. L'arrivo del weekend vedrà un progressivo miglioramento su tutta l'Italia grazie all'anticiclone in espansione dalla penisola iberica. Tempo asciutto e clima mite in quota all'inizio della prossima settimana, secondo i principali modelli, per la presenza di un robusto campo di alta pressione. Anticiclone che potrebbe poi cedere proprio con l'arrivo delle festività natalizie, ma qui la distanza temporale è ancora troppo elevata. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.